Per i pochi che non lo conoscessero siamo con un bomber di razza, uno dei più grandi giocatori che ha visto la macerata calcistica negli ultimi anni. Sto parlando di Jonathan Proculo, adesso ci devi raccontare dall'inizio tutta la tua lunghissima carriera. Sono cresciuto i giovanili da settembrina, dopo ero andato alla Sammettese, ho fatto il settore giovane lì con qualche pezzo anche nei professionisti. Purtroppo l'anno del salto è fallita e sono andato a Internazionale a Città di Castello, poi sono andato a Monturano, ho girato un po' tutta l'Italia. Ho cambiato sempre squadra fino a quattro anni fa dove ho conosciuto mia moglie, grazie a Dio, la quale un anno fa mi ha regalato un bambino e ho fermato anche la testa. Adesso però ti sei fermato, sei a Casette Dete? Sì, ho fatto questa scelta, col calcio volevo smettere, o fare l'allenatore o anche mi piacerebbe fare il direttore sportivo. Dopo l'anno scorso il presidente mi dà una mano, sono andato lì e ho fatto 10-12 gol, quest'anno ho amato la squadra, allenatore e giocatore. Ho fatto 11 gol fino adesso, siamo a tre punti dai play-off e speriamo di farli perché è una grande società le Casette Dete. Ricordiamo anche il tuo anno di nascita perché insomma unici gol ha la tenere età di? 38 38 Bene, ripercorriamo un po' anche, raccontaci qualche aneddoto su di te, girano tantissime storie di provini anche in società piemontesi famose, raccontaci tu. Allora io quell'anno della Sametese dovevo andare alla Juve, dopo c'era un presidente venturato, aveva chiesto un miliardo di cartellino perché giustamente sul mio conto Proculo se ne dicono tante. Ecco, dopo mi è venuto a mancare mio padre, ho fatto questa scelta di rimanere a Sametto e purtroppo l'anno dopo è fallita, questa è la realtà. Quindi nessun problema durante il provino alla Juve? No, la gente dice sai hai fatto questo, hai fatto quest'altro, purtroppo avevo dei grandi mezzi e non la testa, però la vita è una sola, Dio ha voluto così, non guardo mai dietro, cerco di andare sempre avanti. Qual è allora un tuo rimpianto se c'è legato al mondo del calcio professionistico che comunque hai anche visto perché hai sordito se non sbaglio in C1, all'epoca c'era ancora la C1? Forse Ravenna, quando sono andato lì, ho vinto il campionato di eccellenza, dovevo rimanere lì, non dovevo tornare a giocare a San Giusto senza nulla togliere a San Giustese, però Ravenna è una delle piazze migliori che ho giocato, ecco anche Macerata adesso che quest'anno sta andando bene, piazze sentite dove manca il vero calcio. Parliamo un po' della tua esperienza anche tra le squadre della provincia, partendo dalla Re Canatese, tu hai giocato un bel po' di tempo in maglia giallorossa. Sono arrivato lì a novembre, erano a cinque punti dalla prima e abbiamo vinto il campionato, poi ci ho vinto l'anno dopo l'eccellenza, sono rimasto due anni interregionale, ho conosciuto mia moglie, mi ha regalato un figlio, mi ha fermato la testa, grande società. Piazza poco seguita, però una società molto molto seria. E di Macerata? Qual è il tuo ricordo? Sei stato pochi mesi, però eravate quasi riusciti nell'impresa di salvarvi, poi play out persi alla Dispoli. Ma purtroppo quell'anno la società è venuta sempre a mancare, non è una scusante, Macerata è una grande piazza, spero un giorno di lavorarci, ecco quest'anno stanno facendo bene, non penso sincero che vinceranno il campionato, perché secondo me il campionato lo vince la Fermana. Che cosa manca alla Maceratese? Visto che segui anche l'eccellenza, ci sono Fermana, Maceratese e Tolentino tra le prime, secondo te la Fermana perché? Che cosa ha in più rispetto alle altre? Ma forse la Fermana, la difesa, Tolentino la mentalità, la Maceratese gli è venuto a mancare Colai, forse doveva prendere un centrocambista, un centrale difensivo e sicuramente diceva la sua, così fa fatica secondo me. Bene, e adesso tu stai allenando a Casetterete, hai detto che ti piacerebbe fare il direttore sportivo, magari tornare a Macerato o in altre società in cui hai giocato per cominciare? Ma tra tutte quelle che ho giocato qui attorno lo vorrei fare qui a Macerata, perché è una piazza che mi ha voluto bene, credo di aver lasciato un buon ricordo, e il presidente, la signora Tardella è una grande persona, dopo gli episodi del calcio noi giocatori siamo tutti usaggetta, però Macerata è una grande piazza. Il tuo ricordo invece è l'esperienza a Tolentino? Ma feci 28 gol, dopo sul mio conto se ne dissero tanti che mi sono venuto lo spareggio contro il Morro d'Oro, io lì ho conosciuto un presidente che è anche un padre, ancora tutt'oggi ci sento, che è una grande persona, Ivano Ercoli, lui sapeva il mio patto in caso di salvezza, dopo quel giorno non ho disputato una grande partita, è venuto fuori, purtroppo io sono Proculo, Proculo è un personaggio, Proculo è qui, Proculo è là, ancora tutt'oggi mi dice che vado a donne, invece io sto a casa con mia moglie, grazie a Dio. C'è qualche altro sassolino dalla scarpa che ti vorresti togliere, visto che hai l'opportunità di chiarire molte cose? Ma magari gli ultimi due anni ha recanato, perché sono arrivato lì, ho vinto promozione eccellenza, avendo Roberto Movili, tecnico preparato dal Tolentino, forse un anno mi ha fatto giocare poco, dopo ho fatto una scelta, sono andato a Potenza Picena, altra piazza dove mi piacerebbe lavorare col presidente Savoretti, che è una grande persona, Sassolini proprio, Sassolini proprio no, perché secondo me i giocatori siamo usa e getta, gli allenatori lo fa la società e i giocatori, se filo è tutto liscio dovresti fare bene su un ambiente. E a Potenza l'anno dopo, giustamente perché è una società serie, mi ha offerto meno soldi, tanti meno, e questo qua mi è dispiaciuto perché forse ancora tutt'oggi avrei giocato in promozione, ma questo se gioco in seconda categoria è una mia scelta, ecco perché ho conosciuto lì a Casette, ci sono tornato dopo 15 anni, una persona, un vero amico, un grande presidente, una grande società dove il 10 del mese non è importante ma paga. Senti, tu prima hai detto che in gioventù avevi grandi mezzi, secondo te dove saresti potuto arrivare se potessi tornare indietro, dove ti rivedresti? Guardi, purtroppo la vita è bella per questo, io dopo San Benedetto che dovevo andare alla Juve, come ho detto prima, oppure fa parte di una rosa di C1, è fallita. D'estate ho conosciuto una ragazza, non è una scusante, e purtroppo ho avuto un problema di droga, l'ho sopportato 3-4 anni, poi ho fatto una scelta di andare in una comunità, nonostante tutto ho giocato i miei gol, anche quell'anno purtroppo che c'era questo problema, l'ho fatti, se guardo dietro mi dovrei ammazzare, però la vita è bella per questo, sicuramente se non c'era quel problema avrei giocato sicuramente in nazionale, senza fare il presuntoso, però è così la realtà. C'è un giocatore a cui ti ispiri, un tuo idolo, un tuo modello, anche tra gli allenatori, giocatore e allenatore? Secondo me l'allenatore più grande è Giuseppe Mourinho, comunque quello quest'anno della Roma è anche un grande allenatore. Un giocatore che ti ha ispirato, che ti piace, anche del passato? Maradona è il giocatore più forte del mondo, poi quegli altri sono tutti bravi. Chiudiamo con una domanda sul calcio, che cos'è secondo te il calcio, anche il calcio di adesso, si parla molto di calcio scommesse, di cose che non vanno, qual è il tuo pensiero? Secondo me vengono fuori ogni giorno dieci nomi, quindici, venti, sulla vita scommette tutti, purtroppo il gioco ti rovina, io ho giocato fino a prima che conoscevo mia moglie, o anche i primi due anni, è inutile vendere libri, purtroppo c'è l'agenzia dove danno i fogli delle scommesse e girano soldi e quando gira soldi purtroppo non vinci mai.